Sono dieci problemi prioritari da risolvere nel quinquennio 2014-2019 secondo l'intersindacale sanitario abruzzese che ha elaborato un documento da sottoporre ai quattro candidati alla presidenza della regione. Le dieci priorità presentate oggi a Pescara sono semplificazione dell'architettura del servizio sanitario abruzzese, l'istituzione della consulta regionale degli operatori sanitari, l'istituzione di un tavolo di sanità elettronica, la risoluzione del problema delle liste d'attesa, l'assunzione di personale sanitario, medici, infermieri ed altri operatori, riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale potenziando le prestazioni erogate dalle aree distrettuali, il contenimento della spesa farmaceutica per ridurre i ticket, il potenziamento dei pronto soccorso ospedalieri, il potenziamento dei servizi ospedalieri e territoriali e la ridefinizione dei compiti lavorativi aggiuntivi a livello regionale dei medici di continuità assistenziale ex guardia medica. Alessandro Di Felice, presidente regionale dell'Associazione dei primari ospedalieri, e Luca Navarra, segretario FESMED Abruzzo, auspicano che le richieste e le proposte contenute nel documento vengano colte e soprattutto che siano risolti gli annosi problemi che creano disagi sia ai pazienti che agli operatori del settore della sanità. Con la precedente che sta per concludersi, noi abbiamo sempre cercato il nostro coinvolgimento perché credo che coinvolgendo il mondo sanitario, il personale medico, il personale infermieristico, tecnico, anche amministrativo che riguarda la sanità, può portare sicuramente un miglioramento delle situazioni che ammalorano la nostra sanità regionale. Ma questo non è potuto mai succedere. Dobbiamo fare questa proposta per la riduzione delle liste d'attesa attraverso l'individuazione delle prestazioni specialistiche di primo livello da allocare principalmente nei distretti e non andare a intasare gli ospedali. Inoltre l'obbligatorietà che devono avere i medici, i prescrittori, di apporre sulla ricetta la priorità in modo da, diciamo in base alla patologia, in base ai sintomi che un paziente presenta, dare la priorità a quelle prestazioni che ritengono essere più urgenti.